abate ha ufficialmente chiuso la sua carriera nel milan una carriera cominciata nel 99 nelle giovanili milaniste poi una serie di prestiti e ritorno al milan dal 2009 fino ad ora quindi dieci anni di partite con la maglia del milan addosso per la precisione abate in questi dieci anni ha compiuto 306 partite e fatto tre gol col milan e ha deciso di salutare il suo pubblico con uno straffiante post su instagram queste sono le parole di abate su instagram se ripenso a quando per la prima volta indossato questi colori ancora mi emoziono ero un ragazzino allora ed è grazie a questa società che sono diventato uomo il milan non è solo una squadra il milan è uno stile di vita e lo percepisci solo quando lo vivi sulla tua pelle classe storia tradizione eleganza nel milan c'erano i campioni su cui fantasticavo da bambino c'erano le coppe che brillavano dentro la storia del calcio c'era un mondo che guardavo da fuori in cui sognavo di entrare la vita mi ha regalato ben dieci indimenticabili anni e rosso nero oggi mi guardo indietro e non posso che ritenermi fortunato ad essere cresciuto con dei campioni veri da cui ho imparato la disciplina la tenacia la responsabilità di indossare una maglia così prestigiosa tutti sanno che il mio sogno sarebbe stato chiudere la mia carriera al milan ma a volte i sogni si realizzano e a volte rimangono chiuse a chiave nel proprio cuore grazie alla c milan e a tutti i dipendenti conosciuti negli anni persone fantastiche sempre a servizio della squadra e della società grazie a tutti gli allenatori che ho avuto perché da ognuno di loro ho appreso insegnamenti e fatto tesoro dei loro consigli grazie soprattutto ai miei compagni ed ex compagni molti loro li chiamo amici e sono lusingato di poterlo fare due pensieri speciali vanno ad adriano galliani che ha sempre creduto in me e mi ha sempre accompagnato anche nei momenti più difficili e a lui rino gattuso che rappresenta come ho sempre detto fin da ragazzo l'esempio da seguire per chi vuole intraprendere la nostra professione ma il ringraziamento più grande va a voi i miei tifosi voi che mi avete sostenuto e a volte criticato ma soprattutto voluto bene e apprezzato come uomo prima che come atleta vedervi lì in quasi 70.000 in piedi ad applaudirmi a gridare il mio nome mi ha dato emozioni che resteranno indelebili nel mio cuore vedere quello stressione in curva sud e l'essere considerato uno di voi è un privilegio che mi riempie d'orgoglio con il milan nel cuore da sempre sempre e per sempre grazie ignazio grazie